eccoci rovazzi rovazzi bravo grazie bravo ben successo complimenti ora è il momento di farne un altro di successo ma in realtà non c'è in realtà è obbligato da contratto lo deve fare se non lo fa le portiamo via la vita rovazzi lei è nostro per i prossimi vent'anni però io rovazzi la gente come lei la conosco sa piace ai bambini piace alle mamme e quindi no parolacce per questo motivo nella struttura l'abbiamo affiancato un professionista della censura era enrico ci penserà lui a lei e ora vada rovazzi vada vada crei credo di essere stato fin troppo chiaro arrivederci ma io non ho capito in definitiva cosa non ha capito rovazzi una cosa che piace ai giovani che stanno quelle cose che stanno nel computer sui telefonini snapchips instagram bravo instagram bellissima idea vada rovazzi vada 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 il tuo profilo instagram è molto interessante selfie in casa selfie al mare selfie al ristorante mi parli dei problemi e della tua vita stressante vai palestra all'estetista giornata pesante mostri nuovi filtri dove cambiano le facce lingua fuori in testa fiori e bocca gigante ed è la tua foto dove sbocci in discoteca aspetta che ti mostro il cao che me ne frega guarda 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 il cao che me ne frega aspetta che ti mostro il cao che me ne frega è tutto molto interessante faccio cose vedo gente sembra molto divertente tutto bene siamo amici fino a quando tu mi dici andiamo a comandare poi fai il balletto con le spalle molto bello divertente si ma hai rotto le palle l'oroscopo di oggi dice sfiga devastante specchio rotto gatto nero leggimi le carte l'offerta che proponi è così piena di vantaggi due minuti mezzo giga tre mila messaggi con l'aereo scrivo in cielo perché tu lo veda aspetta che ti mostro il cao che me ne frega guarda 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 il cao che me ne frega aspetta che ti mostro il cao che me ne frega è tutto molto interessante è tutto molto interessante è tutto molto interessante non prendere le cose che ho detto come un'offesa smettila di fare la vittima e l'incompresa per farti felice ho preparato una sorpresa con la bomboletta scritto sulla luna piena aspetta che ti mostro il cao che me ne frega guarda 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 il cao che me ne frega aspetta che ti mostro il cao che me ne frega venga Rovazzi mi segua venga ecco qua bravo eh ottimo lavoro Rovazzi vede come puoi vincere dal nostro piccolo gruppo di lavoro di ascolto il suo brano piace piace molto ai bambini ciao da Alessandro e da Sara grazie a tutti Grazie a tutti